Non passa giorno che a Manfredonia ragazzi giovanissimi muoiono nel sonno, vanno a letto sani e non si svegliono più il giorno dopo. Perché sto parlando di questo? Perché sto parlando di malori improvvisi. Tanti di voi non sanno che alle scorse elezioni comunali qui a Manfredonia il movimento politico Insieme Siamo Origine più volte ha chiesto ai commissari la piazza per poter discutere dell'informativa AIFA quell'informativa che veniva nascosta negli hub vaccinali quella informativa che era obbligatoria mostrarla a tutti coloro che erano lì per la vaccinazione obbligatoria. La domanda che oggi mi pongo, se ci fosse stata consentita fare informazione, spiegare alle persone dei rischi a cui andavano incontro parlare dell'informativa AIFA che veniva nascosta ai vaccinati forse oggi qualche ragazzo in più sarebbe ancora vivo. Grazie per la visione! Grazie!